Un altro tassello della variante alla 69 viene aperto oggi, un tratto importante in quanto il traffico attualmente era stato deviato verso il Trarno di San Giovanni creando anche pochi problemi in quella parte di San Giovanni. E' importante anche perché si vedono che i lavori vanno avanti, si aprono tratti di strada fondamentali, insomma con un po' di fatica ma ce la facciamo. L'intervento dovrebbe terminare entro la prossima estrate, il tratto che vedete ha riguardato l'adeguamento della provinciale SP11, la realizzazione di questo svincolo che permette di entrate e di uscita nella variante da San Giovanni. E poi il tratto che deve essere ulteriormente completato va dalla rotatoria che adesso è aperta fino al confine con la provincia di Firenze in località Fornaci.